Ernesto Olivero, onoratissima, grazie di essere qui, grazie di essere qui e raccontarci chi sei e che cos'è il Sermig. Si può essere giovani sempre, è il titolo di un librino che esce in questi giorni, che racconta in breve la storia di questo servizio missionario giovani. Mi spieghi cosa vogliono dire per te queste tre parole, servizio, missione e giovani. Ma non c'è tutte queste cose da pensare. Quando abbiamo deciso di darci un nome, abbiamo scelto il nome più banale, volevamo essere un servizio missionario perché volevamo abbattere servizio a cosa? Servizio e volevamo metterci a servizio. Quindi non abbiamo fatto un'analisi delle parole missionari ed eravamo dei ragazzi, giovani, basta, Sermig. Però i giovani ti stanno particolarmente a cuore, hai scoperto andando avanti col tempo che sono ciò che ti sta più a cuore. Ne parli sempre, hai scritto ai giovani. Ma i giovani sono il problema del mondo adesso, sono la tragedia del mondo. Se uno li ama deve capire chi sono. E oggi sono un'indecenza i giovani perché si drogano. Chi entra nel giro della droga si punisce da solo perché la droga fa male. Ci sono droghe di vario tipo, no? Qualsiasi tipo ti porta poi dopo a una droga che poi ti toglie la vita, ti toglie la speranza o ti fa vivere da frustrata. Io invece spero ancora che dai giovani venga fuori un nuovo Francesco, un nuovo Don Luciano, una nuova Chiara, una nuova Madre Teresa. Quindi io sto puntando tutta la mia vita sui giovani, ma nella verità. Nella verità. E mi pare che quando accuso i giovani così, loro non si sentono accusati, si sentono amati perché io li amo veramente. Cioè bisogna avere delle belle pretese sui giovani, non accontentarsi. No, bisogna risvegliare i loro sogni. Se si risvegliano i loro sogni, quello che non è stato può essere. Quindi ho sempre speranza che possa avvenire. Fermiamoci sulla parola missione. Tu sei un missionario laico, quindi la missione è una categoria della persona, del cristiano, non di alcune persone in particolare. Io sono una persona normalissima che si è commosso. Si è commosso sin da bambino, quando vedevo dei bambini che erano sfortunati, diciamo così. Io non dicevo poverini, io voglio aiutarle. E poi ho capito strada facendo che tutti quanti noi siamo sulla stessa strada di Gerico, dove abbiamo tre opzioni. A, B, C. C'era un ferito che piangeva e passa il prete del paese e cosa fa? Si vuolta dall'altra parte. Passa il sindaco laico del paese e si si è commosse dall'altra parte. Passa un samaritano a cavallo e come diceva Giorgio Lapilla, perché me l'ha insegnato lui la terza risposta, si commosse, scese da cavallo. E quindi noi dobbiamo decidere se vogliamo essere il prete, il sindaco o il samaritano. Oggi c'è bisogno di commozione, perché se nasce la commozione nel cuore dell'uomo, qualunque mestiere tu stai facendo, qualsiasi grado che hai, anche nella Chiesa, ti converti, rinasci e servi. Ernesto, io mi ricordo da ragazza a Torino i tuoi giovani che invitavano i loro coetanei a queste cene del digiuno. Un po' strani questi ragazzi, strani per la carità che era evidente, che svolgevano e strani anche per le straneità. Ha una contrapposizione ideologica che ricorderai in quegli anni, era durissima, no? Era durissimo perché tutti volevano che Ernesto Rivero fosse di sinistra, fosse anti-Vaticano e io dico no, io voglio stare nel Vangelo. E le ho beccate da tutti, sottolineo da tutti. Il tempo li sta dimostrando chi aveva imbroccato una strada così. Ricordaci, chi ha avuto l'idea straordinaria di trasformare l'ex arsenale militare, dove si facevano le armi per il risorgimento, per le due guerre mondiali, in un luogo di accoglienza, di carità, di pace, ma anche di preghiera naturalmente? Ma io negli anni 70, più o meno, ho voluto conoscere Giorgio Lapiera. Io ricordo quando gli ho telefonato, ero un ragazzino, dico professore, ho sentito parlare di lei e mi piacerebbe conoscere. Vieni subito! Ah, proprio così? Disponibilità totale? E' stato con me tre ore e mi ha fatto innamorare di un certo Isaia che non conoscevo. Adesso giri sempre con la Bibbia? E certo! Mi ha fatto innamorare di Abramo. Poi quando sono tornato a Torino ho preso una Bibbia, l'ho letta in Isaia e ho scritto nel mio diario spirituale. Mi sta tanto che il Signore mi userà per qualcosa del genere. Ma non l'ho detto a nessuno perché gli dico, magari mi prendono per matto. Poi nel 76, il 19 maggio del 76, ho sentito l'esigenza di andare dal Papa, Paolo VI. E vado. Ma naturalmente senza appuntamento perché io pensavo, io da dire una cosa importante, il Papa mi diceva. E vado a Roma. La prima volta che vado e vado dalle guardie svizze, c'erano le guardie svizze, e gli dicevo vorrei parlare col Papa. E quella gli scappava da ridere. Cioè adesso che so tutta la storia, la racconto. E mi mandano da Monsignor Monduzzi, il prefetto della Casa Pontificia. Vado da lui e dico, Monsignore, sono Ernesto Olivero, ho fondato un piccolo gruppo missionario, vorrei parlare col Papa. E lui mi guarda. E per fortuna che mi guardava in faccia, mi guarda in faccia e dicele, caro ragazzo, oggi ci sono almeno 20.000 persone che vorrebbero parlare col Papa. E io dico, con tutto il rispetto, degli altri non mi interessa. Io devo dire una cosa importante. Ma lei non ha capito. Lei non ha capito. Veramente è andata così. E lui è rimasto... Spiazzato. Spiazzato. E mi dice, aspetti qui. Dopo mezz'ora, perché ero in quella saletta lì del Vaticano, arriva con due guardie svizzere e dice a queste due guardie svizzere, quando il Papa è finito prendete, ma lei come ha vestito? Ecco, lì veramente lui è stato un grande. Io ero in blu jeans e camiciotto e il peggio doveva ancora venire perché ho detto, Monsignore, lei ha perfettamente ragione, ma il mio amore era talmente importante che sono venuto così come sono. Io credo, e poi dopo, a lato, che mia moglie e le ragazze del Sermi, quando hanno sentito che andavano dal Papa, hanno detto, va dal Papa. Adesso non me lo permettono più. Ogni volta che devo andare da qualsiasi parte. Giacca e gravatta? No, no, no. Tu non la metti mai? No, 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 così, però decentemente. Lui è stato un grande uomo, perché io ho detto, vadi, Monsignore, lei ha perfettamente ragione. Io ho un amico che ha una maglia, me la metto addosso. Quindi sono andato vestito in quel modo e il Papa mi ha ricevuto. E quando mi ha avuto vicino, mi ha sentito che io criticavo la Chiesa, troppo ricca, staccata dalla gente. E lui mi abbraccia. Dice, anch'io desidero queste cose, ma sovente i cristiani non mi obbediscono. Faccia lei quello che ha chiesto a me. Io le benedico, faccia lei. E mentre lui mi abbracciava, ha detto, spero da Torino terra dei santi. E qual è la terra dei santi di Torino? Porta palazzo. Il luogo della carità. Io non sapevo che c'era un arsenale militare lì. La nostra casa sarà la porta palazzo. E dopo tre o quattro anni ci è venuto incontro, in un modo che Dio sa, che c'era un arsenale militare proprio lì. Allora noi ogni giorno andavamo con il rosario a pregare. Vogliamo questa casa. Un bel picchetto, eh? Vogliamo questa casa. Quattro anni di preghiera e il 2 agosto dell'83 se l'hanno data, a patto però che lo mettessimo a posto noi. Ci volevano miliardi, 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 miliardi. Noi abbiamo giocato in fondo. Abbiamo incominciato a portare i nostri sogni in quel rudere ed è avvenuto. Senti Ernesto, la parola pace è così abusata spesso e svuotata di significato. È anche sfruttata per finalità politiche ben poco pacifiche. Che cos'è per te la parola pace? A proposito di bandiere, noi negli anni 90 dei ragazzi ci hanno detto ma perché il Sermic non fa una bandiera della pace? Perché non fa una bandiera della pace che indica la pace? Ci abbiamo pregato, lavorato per tanto tempo. Poi Piero Reinerio dello studio Testa, che è un grande creativo. Grandissimo. Lui è entrato nella nostra mentalità. è entrato nel nostro cuore e ha fatto pace in italiano sulla bandiera, con tutte le bandiere del mondo. Quindi pace vuol dire per tutti. Però la pace, chi nomina la parola pace, deve essere in pace con se stesso. Deve avere desiderio che l'altro che è davanti, che è un lazzarone, che è un disgraziato, si converta. Per cui pace per me è aiutare la mafia a convertirsi. Perché se io fossi un mafioso vorrei che qualcuno mi convertissi. Tu dici? Certo. Che in fondo il desiderio del cuore è quello? È quello. Però se tu sei una persona che ha tanto sbagliato e dai miei occhi io ti giudico, tu non entri nella relazione con me. Io devo amarti, devo volerti bene. Quindi se vogliamo la pace bisogna voler bene all'umanità, anche quella che sbaglia. Oggi c'è una campagna contro il nucleare che è giusta, ma noi siamo contro tutte le armi. Perché quell'uomo in America, col suo fucile che ha sparato, ha ucciso 60-70 persone, aveva un fucile, certe persone con un coltello ti ammazzano. Noi, senza equivoci, diciamo, dobbiamo ritornare a Isaia, dobbiamo ritornare a educarci. Perché Isaia? Perché citi sempre Isaia? Isaia, lui, il profeta della pace. Ci sarà un tempo in cui le armi non saranno più costruite, l'uomo non imparerà più l'arte della guerra. Noi segniamo quello e intanto asciughiamo tutte le lacrime che possiamo per non fare della retorica, una teoria oppure un nuovo modo di pensare in un modo sbagliato. Sì, anche perché la pace e la povertà sono legate tra loro, no? Certo. Grazie di questa citazione che volevo facessi. Dobbiamo ricordare che la pace non sono solo parole, ovviamente, o proclami, ma sono innanzitutto opere e sono un'ottantina le situazioni nel mondo di lavori per la pace realizzati dal servico. A me viene in mente innanzitutto l'opera che avete svolto per l'assedio alla Basilica della Natività di Betlemme nel 2002, ma insomma ce ne sono un po' anche più vicine. Sì, quella è stata una cosa davvero straordinaria perché un mattino alle 6 mi telefona Michelle Sabat, il patriarca, e mi disse siamo qui in una riunione segreta con la CIA, con il Mossad e stiamo trovando un compromesso perché Israele non intervenga militarmente a Betlemme. e tra me dice al telefono, dice Israele ci sta se un operatore esterno a Israele, alla Palestina, se ne prende cura. Noi vorremmo che lei fosse quella persona che si prende cura di questo. e con una grande commozione ho detto di sì e poi le cose sono andate e come dovevano andare, ma il nostro modo di operare era non essere contro nessuno, ma essere a favore e e per la prima volta, in una situazione molto difficile, molto complicata, non c'è stato spargimento di sangue e noi non abbiamo fatto nessuna conferenza stampa per dire il merito è nostro. L'arsenale è a Torino, è in Brasile, è in Giordania, però i giovani della pace sono un po' dappertutto. Noi abbiamo tantissimi giovani in giro per il mondo che ci vogliono bene, che stanno camminando con noi, che stanno facendo delle opere di giustizia, perché pace è anche fare delle opere di giustizia e secondo me dobbiamo passare tutti dalla parola restituzione. Io quando ho incontrato quella parola nel Padre Nostro, Padre Nostro, io ho smesso di pregare per un momento e mi sentivo ipocrita, Padre Nostro e poi non mi faccio gli affari degli altri e fin quando non ho capito che dovevamo restituire oggi la vera pace, sai, se il mondo occidentale eccetera, noi siamo di questo mondo, impara a restituire, impara a vedere nell'altro suo fratello, impara a vedere nei profughi che vengono dei fratelli. Se non passiamo attraverso questo il peggio deve ancora venire, però il peggio è nelle nostre mani, se ci convertiamo quello che non è stato può essere. Quando parli di conversione pensi solo alla fede o anche a un modo diverso di essere uomini? No, 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 noi dobbiamo diventare uomini di buona volontà. Io ricordo con Norberto Bobbio che aveva un dialogo con me, voleva vedere il mondo. Che è stato l'esponente del laicismo più rigido per alcuni, invece aveva delle aperture di cuore. No, 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 e lui un giorno mi disse tu a me certe cose non puoi dire perché io sono un non credente. Allora arrampicandomi sui vetri, sapendo che avevo il diritto di replica come lui naturalmente, disse allora sei un immorale. Immorale io. Scusa, sei tu che dici non credente? Mi arrampicavo sui vetri. Allora lui mi dà l'intuizione meravigliosa. E tu come divideresti gli uomini? Se proprio devo dividere gli uomini e le donne, li divido in uomini e donne di buona volontà e uomini e donne di non buona volontà. Bellissimo! E chi sono gli uni e chi sono gli altri? Semplice. Sono quelli che per le proprie motivazioni religiose, filosofiche, filantrofiche, religiose, politiche, partite e tutto il resto, si fanno gli affari degli altri. Bello! E chi sono gli altri? Sono quelli che per le stesse motivazioni si fanno gli affari propri. Bellissimo! Quindi noi vogliamo tendere a diventare uomini e donne di buona volontà. Poi se uno ha la fede, la viva. Ma non viene a te la fede? Dalla tua famiglia, ai tuoi genitori, da una rivelazione? Io sono nato già fatto. Naturaliter cristianus. Quindi da bambino, io ricordo un prete, padre liberato, adesso in paradiso, mi fece diventare capogruppo dei bambini. Io ero un bambino e tutto è iniziato da lì. Per cui quello l'ho sentito e sono esattamente come allora. Hai scritto in questo libro che citavo prima, vorrei aiutare le giovani generazioni a non aver paura di abbandonare ciò che illude, dire no all'apatia e al cinismo, far venire voglia di incontrare Dio e imparare a dialogare con Lui. Come ci riesci? Come si fa? Ma prima di tutto non bisogna dirlo questo. Bisogna immaginarlo. viverlo nel proprio cuore. Io non parlerò mai di Dio in un modo esplicito, ma Dio ce l'ho nel cuore. E si vede, dici? Non lo so, questo devono dirlo gli altri. Perché oggi parlare di Dio è terribile. Io ho scritto un libro, Dio non guarda l'orologio, un libro che ha avuto un successo. Siamo andati al salone del libro per presentarlo e i ragazzi davano i volantini. Alla sera quasi tutti i ragazzi piangevano. La gente quando prendeva il volantino lo strappava. Che succede? Ecco, oggi tanta gente nomina Dio e uccide qualcuno. Nomina Dio ed è ipocrita, è roba. Credenti o non credenti. Dio è una parola sacra. Se tu l'hai incontrato devi viverlo secondo Lui, ma senza citarlo. Dio, Dio no. Qualche volta lo cito, ma quando c'è, ce n'è bisogno. Ma non c'è bisogno di citare Dio per dimostrare che Lui esiste. È una grazia l'incontro con Dio? O è una scelta anche? O tutte e due? Può essere anche una scelta. Può essere anche una scommessa. Insomma, io incontro una persona bellissima, santissima, io posso credere a cosa crede Lui. È una scelta anche razionale, ma dipende dal cuore di ognuno. Se penso ad alcuni grandi amici che ti hanno sostenuto nel tempo, tu che hai tutta questa passione educativa per i giovani, non erano affatto giovani. Penso a Frè Roger, penso al Cardinal Pellegrino, penso al Cardinal Martini, penso a Madre Teresa, l'abbiamo detto prima, ma anche al Cardinal Van Tuan, penso a Giorgio Lapira. Che cosa vuol dire essere giovani? E pensare che nulla è impossibile. E avere la certezza che ogni problema è un'opportunità e allora lo vivi, semplicemente. Tu come sei cambiato col tempo? Tu hai imparato a fare cose che neanche avresti immaginato, l'hai raccontato tu, che eri un ragazzino difficile, che non andava bene a scuola, che è stato bocciato un sacco di volte, hai imparato a parlare in pubblico e anche a prendere gli aerei di cui vi paura. Ma come si cambia di più dentro? Ma non bisogna cambiare, bisogna dare al tempo il suo tempo. Io veramente non volevo parlare in pubblico, non volevo fare queste cose e per 15 anni in fondo ho fatto così. Poi la grazia di Dio, un amico, io ricordo una ragazza, grazia d'amico, me la ricordo ancora di nuovo, esiste e vive. E mi dice, ma perché non parli in pubblico? Ma me la faccio addosso, sei scema. Ma parla come fai con noi? E io ho avuto fiducia. E da quel momento in qualsiasi ambiente parlo, non preparo mai gli incontri, ma amo l'incontro che devo fare e vengono fuori delle parole. Semplicemente. Quindi andando avanti con gli anni, la giovinezza dentro è anche la capacità di sperimentare, di provare cose nuove, di essere a disposizione dei talenti che Dio ti dà. Essere a disposizione senza pensare, io non ho mai pensato di avere nessun talento, non ho mai pensato di avere un dono assolutamente. Dico vabbè, devo vivere la vita senza dono, intanto non ruberò, intanto non dirò bugie, intanto mi lascerò guardare in faccia, negli occhi e se sbaglio imparerò a chiedere scusa. Questa è la mia vita, ancora adesso è così. Chiunque mi può insegnare qualcosa. Tu hai fondato una comunità di monaci, monache, preti. Tu sei un laico, padre. Com'è stato possibile? Ma Dio, quando ha un desiderio, chi sceglie, secondo te? Decide lui. Sceglie le persone più impensate, vero? No. E non vorrei offendere Dio. Dio è intelligente. Sceglie chi è disponibile, chi è disponibile a cambiarsi, a rivoluzionare tutte le idee. Se io guardo chi sono, cosa ho fatto e penso alla prospettiva che avevo verso i 15-20 anni, è impossibile. Dio sceglie chi è disponibile e poi lo metto nelle condizioni, lentamente, ma decisamente, di essere quello che vuole lui. Quindi a me piacerebbe, mi piacerebbe essere quello che vuole lui. Tu hai detto che essere cristiani è la cosa più bella che ti sia mai capitata e che possa capitare al mondo. Com'è che fa a capitare? Come capita? A volte capita e uno distrattamente sceglie il potere. Perché essere cristiani vuol dire essere anche noti, a volte. E quello ti abbaglia. Beh, oggi mica tanto. Oggi è scomodo essere cristiani? Ma a volte il cristiano si camuffa anche in un guerriero che magari non lo è. Quindi io credo che Dio esiste e come. Se tu vivi quello che lui ha detto nel Vangelo, il Vangelo è di una bellezza incredibile, ma devi poterlo spiegare con la purezza, con la sorpresa che stai dicendo qualcosa di particolare, ma senza mai pensare che sei su un gradino, che sei tizio che hai sempre l'olio, che hai questo grado. Io penso addirittura che nella Chiesa più uno in alto va e più deve servire. Più in alto va e non deve avere soldi. Più in alto va e non deve avere delle macchine risorse. Ma dovrebbe essere questo in un modo semplice. io lo vivi in un modo semplice, non giudico, però il cristianesimo è quello che è scritto nel Vangelo. Sarebbe spontaneo dirti sei molto in sintonia con questo Papa, ma credo che tu mi risponderesti sono stato in sintonia e bisogna esserlo con tutti i Papi. Io sono in sintonia con Gesù, mi sono innamorato di Gesù, quindi cosa vuoi di più della vita? Poi il resto, gli abbinamenti si possono fare. Ho avuto degli amici, Don Luciano Mendes del Meda, che era un gesuita, brasiliano, presidente della conferenza episcopale del Brasile, tutti noi pensavamo che sarebbe diventato Papa. È morto tra le nostre braccia, perché lui ci amava moltissimo, con dei dolori indicibili. Diceva Dio è buono, Dio è buono, Dio è buono. Abbiamo conosciuto Vantuan, Vantuan che aveva tutto il diritto di protestare contro chi l'aveva messa in prigione, non ha mai detto una parola contro i suoi persecutori. Mamma mia, Madre Teresa, ma poi io conosco tante Madre Teresa, tante Vantuan che sono dei ragazzi, alcuni dei miei ragazzi che sono bravissimi come loro, quindi non è che bisogna andare sui giornali per essere bravi. Anche la comunità religiosa non l'hai voluta fondare tu, è stata una provocazione di uno dei tuoi ragazzi, giusto? No, no, io non immaginavo mai più una storia del genere, però a un certo punto ho incominciato a vedere nel volto delle ragazze, dei ragazzi che mi giravano, dei doni particolari. Una ragazzina quando aveva 16-17 anni tra me disse questa è una nuova madre Teresa e ha fatto delle cose incredibili, tutt'ora le fa, un ragazzo che aveva 20 anni, ma io ho capito che sarebbe diventato sacerdote, ma l'ho fatto penare 7-8 anni, è diventato sacerdote, è bellissimo, cioè la bella gente c'è oggi, c'è oggi. Noi dobbiamo essere solo buoni, trasparenti, se sbagliamo dobbiamo chiedere scusa. E tu dici anche andare incontro a quelli che non sono buoni, tu usi parole semplici, pieno di ragazzi sbandatissimi e non possiamo sempre solo dare colpa all'educazione, alla società, cioè il male è anche dentro la persona, no? Ma io voglio bene alle persone. Oggi i ragazzi sono il punto più basso della storia dell'umanità. Eh sì, perché la droga uccide, la droga ti mangia il cervello. Non solo la droga, no? Sì, capito, però adesso il male maggiore è quello, anche l'alcol, anche il gioco, anche il sesso. No, 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 non dobbiamo avere paura di dirci le cose senza giudicare le persone, però dobbiamo indicare una via d'uscita. E la via d'uscita sta quando un uomo, una donna si fa aiutare oppure incomincia a dire ho sbagliato, devo fare un altro tipo di strada. Ho visto anche delle conversioni che hanno un grande significato. Beh, i grandi criminali che grazie alla vostra amicizia sono cambiati. Sì, ma senza dovercene fare un vanto. Quindi eravamo noi in quel momento sulla strada, siamo scesi un po' da cavallo e quelle persone hanno creduto, hanno visto che anche se erano degli assassini, anche se avevano fatto degli errori gravissimi, potevano cambiare. Alcune di queste persone sono veramente cambiate. Però il merito è di Dio che opera nel tuo cuore. Guai a dire il merito è mio, ma ti prendo a schiaffi, mi prendrai a schiaffi da solo. Ernesto, qual è il merito che hai avuto e che ha tua moglie accanto a te? È mia moglie, lei è il capolavoro di Dio. È lei che quando eravamo ragazzi mi disse lei di fondare i semi che fonda. Tanto lei è chi immaginava una strada del genere. Però a lei tutte queste cose qui sono diventate qualcosa di incredibile quando lei poi ha avuto un ictus un po' paralizzata nella parte destra, mi pare. È lì che ha dimostrato tutta la sua fede, non si è mai lamentata e continua a essere. Tutte le cose che facciamo, faccio, le facciamo insieme, quindi nulla di eccezionale. Lei sì che è eccezionale. Dedicale una canzone. Dedica a noi una canzone e chiudiamo questa chiacchierata. Ma io non le dedico una canzone, le faccio una poesia. L'edetico è una poesia. Appena ti ho visto ho capito che saresti diventata mia moglie. E dopo poco tempo ci hai creduto, io ci ho creduto e ci siamo sposati. Volevamo avere tre figli e tre figli sono venuti fuori. Volevamo dare due ore alla settimana e ci siamo sbagliati perché poi le due ore sono diventate 24 ore. Credevamo che non avremmo mai parlato in pubblico e invece che dopo un po' di tempo abbiamo cominciato a parlare in pubblico, semplicemente. Grazie Ernesto, grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.